Ciao a tutti ragazzi, sono Valentina, benvenuti e bentornati in questo nuovo video ed eccoci qua, come avete detto al titolo qua sotto, con il manga haul del mese di agosto Agosto è stato un mese, come al solito, ricco, però un po' meno carico rispetto al solito e oltretutto molte cose che vi farò vedere le ho anche già lette, perché agosto ho letto tantissimo quindi direi di partire subito, così il mio intento è quello di non far venire il video troppo lungo ma tanto dico sempre così, poi alla fine non è vero e niente, partiamo come sempre questo trovate tutti i link ai vari volumi citati, ovviamente quelli disponibili su Amazon e vorrei partire facendo vedere questo perché ho raggiunto la spesa sul sito della Panini per poterlo prendere ho deciso di prendere sicuri alcuni che mi interessano, poi se capitano gli altri bene, se no non è necessario dovevo recuperare alcune cose, quindi sono arrivata alla soglia dei 70 euro e intanto ho preso diciamo la moneta ecco di Alita è bella, da tenere libreria, però ecco diciamo sono quelle cose non strettamente necessarie partiamo proprio da quello che non è manga e che è quello, a parte un volume che mi ha fatto raggiungere la spesa per avere la moneta di Alita allora innanzitutto ho recuperato il terzo e ultimo volume di Elblazer di Delano che mi mancava Hold Me, questo l'ho preso da Amazon, prezzo 25 euro, adesso che li ho tutti e tre non vedo l'ora di leggerlo ovviamente è la storia di John Constantine e niente, ho recuperato questo così li ho presi tutti e tre e siamo a cavallo rimanendo in tema, Constantine ho recuperato il sito della Panini, il terzo volume di Books of Magic con ovviamente la pronuncia Team Hunter e in questo caso abbiamo anche John Constantine all'interno di questa storia prezzo di 13 euro, non ho recuperato la nuova versione del diciamo primo Books of Magic perché avevo già quello della Revolion quindi mi sono tenuta questa e adesso che ho recuperato tutti quelli disponibili al momento voglio leggermeli tutti di fila però prima voglio finire di leggere per bene Sandman perché mi mancano gli ultimi volumi in realtà stavo aspettando che caricassero l'audiolibro degli ultimi volumi ma non riesco più ad aspettare quindi penso che lo inizierò lo stesso poi ho recuperato i primi due volumi di Lucifer, Il diavolo sulla soglia e Bimbi e mostri che è praticamente la storia di Lucifer dopo che ha abbandonato l'inferno dopo quello che accade in Stagione delle nebbie che è uno dei miei volumi di Sandman preferiti e praticamente parla di Lucifer quando ha creato il Lux a LA e quindi praticamente quello che ha ispirato bene o male la serie tv il prezzo degli ogni volume sono 16 il primo, 19 il secondo questo contiene Lucifer 99,13 e 2000,14 e questo contiene Lucifer 2005,13 ne vedo l'ora di leggerli, Lucifer mi piace un sacco come personaggio quindi non potevano recuperarlo e poi due volumi di Fable, il numero 8 che si chiama Lupi e il volume speciale Le mille e uno notti di neve che racchiude alcune storie che si trovavano alla fine dei volumi della vecchia edizione Revu Lion tipo come storie extra alla fine di quella che era la storia principale, sono racchiusi qua dentro allora questo costa 14 euro e questo anche 14 euro, qua sono ancora in un punto in cui l'avevo già letto io l'ho arrivata a leggere fino al volume 17 della vecchia edizione Revu ma voglio riprenderlo, adesso quando l'ho conclusa tutta voglio ricominciarlo e leggermelo tutto insieme per godermelo al meglio chiudiamo la parte non dedicata ai manga con un regalo speciale specialoso da parte delle mie papere paperose cioè il quinto volume di Monstress il prezzo è di 19 euro, così questo sono riuscita ad avere tutti e cinque i volumi usciti finora di Monstress le mie papere le ringrazio sempre col mio grande corazón, regalo di compleanno e niente, non vedo ora di iniziarlo, visto che dovrò limitare un po' gli acquisti, vero un pochino ho molte cose da leggere e Monstress molto probabilmente sarà una delle mie letture di ottobre voglio gestire settembre-ottobre per smaltire un bel po' di cose quindi Monstress è in lista e non vedo l'ora di iniziarlo mi piacciono un sacco i disegni e tutto, quindi vedremo grazie ancora a mie amate papere paperose passiamo ai manga con questi qui allora ho recuperato per Goen il primo volume di Golden Days di Shigeru Takao su consiglio di Eli, Afrodite Urania, che ha fatto un video su quelle che sono le serie che sta seguendo che le piacciono di più il prezzo è di 12,50€, devo ancora leggerlo ma non vedo l'ora di farlo volevo recuperare anche il primo di Swan e single per sempre peccato che anche su Starshop mi ha consigliato lei di prendere al momento non siano disponibili controllo ogni giorno, però al momento ancora no io Swan lo aspettavo un sacco, vabbè, spero di riuscirlo a recuperare però non vedo l'ora intanto di iniziare a leggere questo una storia che parla di viaggi nel tempo, insomma, quando si parla di viaggi nel tempo per me è sempre come invitare uno a capire poi per la Daini, Toddini come volete, ho recuperato il 4 e il 5 della nuova edizione di Yellow Spank 12,90€ il volume finalmente ho recuperato il secondo volume del Castello Invisibile tratto dal romanzo di Mizuki Tsujimura che ho letto anni fa, mi era piaciuto un sacco e quando ho qui 2-3 soldini in più metto dentro un volume della rivistazione manga perché mi piace leggerlo anche a versione manga non ho ancora letto primo volume ma voglio farlo presto anche questo 12,90€ e poi mi sono lasciata tentare da questo titolo che è Kiku the Cat che appena era stato annunciato mi aveva subito incuriosito della collana showcase, infatti costa un po' di più 16,90€ perché è una storia che parla di gatti parla praticamente di questo autore Sobun che ha fatto dei disegni e messi su Twitter quelle che sono brevi storie sulla sua vita con questa gatta Kiku che è una gatta tricolore e con la coda mozzata che ha incontrato in un catcaffè e quindi sono molto curiosa di leggerlo già il fatto che sia una gatta tricolore per chi ha gatte tricolore e poi gatta con la coda mozzata o anche una gatta con la coda mozzata l'ho sentito molto mio poi vabbè si parla di gatti e ciaone e niente, sono disegni molto semplici storie molto semplici e non vedo l'orecchio di affrontarle perché secondo me sarà comunque molto molto carino soprattutto quando si parla di storie vere racconti quotidiani di umani e loro animali sapete che io vado in brodo di giucciole passiamo alla J-pop prima di far vedere gli acquisti normali faccio vedere un piccolo grande recupero che ho fatto su Vinted che oltretutto ho già letto e ne parleremo presto recuperato tutti gli spiriti di casa Momochi, Yaya Shoto un'autrice che avevo già conosciuto anni addietro con Strave Love Arts e Kiss the Rose Prince che mi erano piaciuti moltissimo ma devo dire che gli spiriti di casa Momochi mi è piaciuto ancora di più e a voi recuperare anche di suo He's My Vampire così da aver letto più o meno no più o meno forse aver letto tutto quello che è uscito di suo in Italia questo mi è piaciuto un sacco visto che sta per uscire a ristampa di Kamisama Kiss diciamo che l'atmosfera è abbastanza simile però le storie sono completamente diverse e ne parleremo perché li ho già letti tutti e 16 mi è piaciuto tantissimo prezzo di volume di 4,40 euro e usciva un po' di tempo fa però ecco dai ne parleremo perché mi è piaciuto un sacco poi i suoi disegni sono sempre bellissimi e anzi rispetto alle vecchie storie che ho letto sono anche molto migliorati quindi se già erano bellissimi prima figuratevi adesso altri volumi J-pop che ho preso ma di questi non ho letto ancora niente allora il secondo volume dei 4 fratelli Yuzuki che saranno delle mie prossime letture che non vedo ora di leggere per godere ancora delle avventure di questi 4 fratelli vedere come si evolve la loro vita la loro situazione il loro vivere da soli e diciamo ognuno con un proprio carattere sapete che il primo mi è piaciuto tantissimo poi abbiamo il 5 di Dance Dance Dancer devo ancora leggere gli altri ma visto che voglio smaltire roba questo sarà sicuramente uno di quelli disegnati a essere letti poi si parla di ballo e vabbè anche qua per me è come invitare uno a cabere stesso discorso per My Dress Up a Darling Biscuit Doll numero 5 devo ancora iniziarlo però anche qua ne sento continuamente a parlare bene quindi non vedo l'ora di iniziare a leggere anche questo ho preso il numero 9 di Shadow House sono indietro di 2 o 3 volumi mi metterò in pari anche perché insomma mi sta piacendo un sacco questa storia e quindi voglio vedere come evolve ho recuperato in fumetteria un volume di Nagabe che ancora mi mancava autore di Girlfriend the Other Side e con questo ho recuperato tutte le sue opere uscite però non le ho ancora lette tutte e comunque è Monotone Blue una serie di racconti da quello che ho capito con animali antropomorfi come si può evincere dalla copertina e poi come era anche nell'altro volume suo che era uscito a tema anche qua tematiche un po' Boys Love l'altro volume unico suo mi era piaciuto tantissimo e quindi ecco vediamo un po' come sarà anche questo e infine ho recuperato il quinto volume di Buddha ora ne mancano due per finire questo recupero al prezzo di 14 euro anche questo una volta che sarà finito con molta calma me li leggerò le opere di Tezuka preferisco averle tutte per leggermele tutte in una volta sola non so mi piace godermelo una volta che le ho concluse quindi potermele leggere tutte tutte insieme tutte tutte di fila perché secondo me dà più quel senso di soddisfazione e completezza lo so sono viaggi miei me ne rendo conto passiamo alla Magic Press di cui adesso qua partono le case editrici con i volumi che ho letto di questi ne ho recuperati 5 ne ho già letti 3 il primo ovviamente non potevo non leggerlo il 17 di Skip Beat bellissimo stupendo meraviglioso come sempre e niente poi ne parleremo perché mi è piaciuto da morire ecco questo volume poi abbiamo il numero 4 dell'inganno di Freya nel mese di agosto mi sono messa in pari con l'inganno di Freya e mi sta piacendo tantissimo ho letto anche 2 e 3 e ovviamente il 4 e vabbè ciaone anche qua secondo me la piega che sta prendendo mi sta piacendo da morire un classico fantasy mi piace da un sacco il 6 volume di Last Game che vabbè mi piace sempre da morire come sapete è una delle serie che mi sta più prendendo ultimamente sono molto indirizzata verso gli shoujo però perché ne sto leggendo molti ma che hanno bene o male sfumature tutti diversi l'uno dall'altro ed è questo che mi sta piacendo molto di questi shoujo che me le sta facendo soprattutto tanto apprezzare e poi ho recuperato ma devo ancora leggere 36.000 secondi al giorno il numero 3 come vedete in copertina c'è sempre uno dei ragazzi del club degli sfigati diverso e non vedo ora di leggere anche questo volume perché anche qua secondo me si preannuncia come per gli altri due una lettura molto molto divertente Planet Manga ho recuperato solo 3 volumi questo mese cioè il mese scorso vabbè già letto ovviamente protegge la mia terra numero 4 anche qua volume bellissimo e non vedo l'ora che è avere fra le mie mani il quinto volume perché preparatevi sarà un volume bello 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 carico di tante cose mi sono fatta un'idea su che punto andrà a finire il prossimo volume praticamente posso darvi solo un piccolo anticipo entreremo più in contatto con quella che è la figura di Shion perché andremo a conoscerlo nel profondo vedendo letteralmente il suo passato preparatevi tanti fazzoletti perché si piangerà moltissimo e poi ovviamente preso e letto subito ma che sfacciato numero 4 sto già aspettando il 4 che l'ho ordinato sul sito della Star Shop perché non ho volumi extra a parte questo da prendere sul sito della Panini quindi ho fatto un ordine su Star Shop e vabbè anche questo mi piace sempre uno shoujo spokon anche qua insomma mi intrattiene mi piace mi diverte i due personaggi sono meravigliosi l'unico che non ho letto è il numero 14 di Fumetal Alchemist però vabbè come ben sapete è una ristampa di un'opera che ho già letto riletto straniletto visto rivisto stranilisto sarà fra le mie prossime letture però in copertina c'è Linggrid uno dei miei personaggi preferiti e niente ci piace un sacco e non vedo l'ora ecco di andare avanti anche perché qua i nodi iniziano ad arrivare al pettine visto che ormai ci stiamo avvicinando al rush finale della storia dato che mancano quattro volumi Star Comics con lei chiudiamo il tutto allora vi faccio vedere prima quelli che ho già letto che sono un bel po' poi vi faccio vedere gli altri che sono quelli che non ho letto allora ovviamente Tsubaki Cho Lonely Planet numero 3 di Mika Yamamori niente mi sono innamorata di questa autrice delle sue storie soprattutto del suo disegno ho preso ovviamente il primo volume della nuova opera sua che è uscita e ho recuperato di recente su ebay una stella cadente in pieno giorno che non vedo ora che arrivi e di poter leggere perché voglio leggere tutto di suo Tsubaki Cho Lonely Planet mi sta piacendo da morire questo terzo volume è stato bellissimo come i primi due e non vedo ora di andare avanti poi ho letto il 17 di Shirayuki dai cappelli rossi un volume che mi è piaciuto molto perché si distacca un po' da quella che è il filone principale di storia quindi lo sviluppo di Shirayuki nel suo lavoro di erborista perché qua si focalizza più su zen e questa diciamo questo accenno politico che ha questo volume mi è piaciuto e mi ha intrigato tantissimo quindi vedremo come proseguirà il numero 9 di Living Room Matsunaga Sun anche qua ci stiamo avvicinando alla fine perché se non sbaglio sono 11 o 12 non di più ovviamente si vede che ci stiamo avvicinando alla fine ma anche questo volume mi è piaciuto da morire penultimo volume della ristampa di Suntail ho già ordinato l'ultimo e non vedo l'ora che arrivi per potermi godere di nuovo anche il finale di questa storia che già avevo letto nei manga contenitori amici sempre bellissimo questo scioggio classico e ho iniziato una nuova serie con cui mi sono anche messa in pari che è Rose and Blood il mio nuovo guilty pleasure peccato che il quinto volume sarà l'ultimo è una serie classica di vampiri un po' in stile Twilight ma con quel pizzico gotico che ci piace molto mia madre mi ha regalato i primi due e ho preso il 3 e il 4 bellissimo mi sta piacendo da morire e poi i disegni sono fantastici e sulla copertina abbiamo per ogni copertina un personaggio diverso infatti l'ultimo si chiederà con la protagonista femminile Stella in copertina e non vedo ora di leggerlo poi parleremo anche di Rose and Blood per quanto riguarda gli altri che sono quelli che non ho letto abbiamo il volume numero 11 di Mao che anche questo sarà una delle mie prossime letture perché mi sta piacendo tantissimo la piega che prende la storia così alla Inuyasha ma allo stesso tempo un po' diversa più oscura più matura forse e mi sta piacendo tantissimo ed è in zero con cui sono indietrissimo ovviamente ho finito di recuperare in digitale tutti i volumi che mi mancavano di IQ quindi dal 9 al 45 ma per rappresentanza ho voluto prendere il primo e l'ultimo volume anche cartacei per dargli una presenza fisica in libreria a parte l'arte perché sono complementari queste copertine e sono bellissime e quindi niente ho preso il primo e secondo cartaccio e dal 9 al 45 in digitale così da finirla l'ho letto fino al 25 in mese di agosto poi 33 e 34 di shaman king il 35 sarà l'ultimo quindi finisce anche questo recupero e anche qua finalmente ora che la avrò tutta potrò pian piano iniziarla a leggere dopo tanti anni che volevo leggere questa storia altri due volumi di un'altra ristampa che sto prendendo che è quella di carca per sakura abbiamo il 6 e il 7 ne mancano due perché finisca sempre bellissime le copertine sempre veramente molto raffinate bella edizione secondo me non al livello della perfect che aveva anche una bella galleria colori cosa che questa non ha a parte appunto la prima pagina però è comunque una bella edizione da avere in libreria per collezionismo vicino all'altra volume 14 di ariadne in the blue sky ho deciso di fare come ho fatto con kaguya sama love is war mi fermo nell'acquistarlo e inizio a leggerlo cioè continuo a leggerlo e valuterò poi se continuare o meno perché devo fare un po' di tagli e puntare su cose che mi interessano maggiormente rispetto ad altre terzo volume della ristampa di kenshin devo ancora iniziarlo a leggere ma anche questo sarà fra le letture che voglio fare per smaltire per smaltire già mi sono fatta una lista numero 6 della ristampa di nuyasha anche questo sarà fra le mie prossime letture ma tanto anche qua già so che cosa che cosa succede sappiamo bene che è arrivata sango e quindi il gruppo ormai adesso è al completo e parte così la caccia a naraku quindi non avrei neanche bisogno di leggere in realtà ma lo leggerò lo stesso perché questa edizione mi piace da morire abbiamo la prima pagina colori che è sempre bellissima e basta per il resto no però mi piace carta bianca mi piace molto l'edizione insomma ci volevo l'edizione decente per i nuyasha anche perché io personalmente avevo ancora la versione rossa quindi la prima edizione non avevo preso la perfect che era uscita un po' di anni fa chiudiamo questo manga haul con il secondo volume di Sanpei devo ancora leggere il primo però anche questo me lo godrò pian piano adoravo l'anime di Sanpei quando ero piccola mi emozionavo un sacco a vederlo e non potevo non recuperare il manga anche ok questo è tutto quello che ho recuperato ad agosto meno del solito ma come suol dirsi pochi tra virgolette ovviamente ma buoni fatemi sapere voi che cosa avete recuperato cosa state leggendo di bello se state seguendo qualcuna di queste serie e noi ci vediamo nel prossimo video come sempre trovate qua sotto i miei link a tutti i miei social e all'affiliazione ad amazon se il video vi è piaciuto invito come sempre a lasciare un bel like e iscriviti così a non perdervi i prossimi video e alla prossima un bacione ciao a tutti ciao a tutti i miei sociali